Ieri tornata a riunirsi la Commissione Sagre, presente l'assessore Comanducci, ovviamente il Comitato Sagre e le associazioni di categoria. La vostra richiesta era quella di un regolamento unico per tutta la ristorazione non professionale. Cosa ne è uscito? Come avevamo annunciato nei giorni scorsi abbiamo presentato una proposta di modifica del tavolo. Possiamo dire senza ombra di dubbio che quelle che sono state le battaglie dello scorso anno hanno messo in regola solamente un lato della ristorazione, che è quello delle sagre e delle feste, tralasciando tutta una serie di eventi che comunque sia non hanno avuto alcun tipo di freno. In questa ottica noi non abbiamo chiesto niente di più di quello che avevamo già, quanto che tutto il settore sia regolamentato alle nostre regole e che il tavolo in questo senso diventa un tavolo di monitoraggio di tutta la somministrazione non professionale. Contro chi puntate il dito? Non puntiamo il dito contro nessuno, tantomeno con i quartieri i quali vogliamo che continuino ad operare come hanno già fatto fino ad adesso, nel pieno regime delle loro attività. Vogliamo fare squadra con un mondo intero e quantomeno vogliamo che alla fine esca veramente fuori quello che è il giro di affari di tutti. Chiedo che le manifestazioni rientrino nei nostri otto giorni e tutto il resto che quantomeno tutti alla fine di ogni evento presentino un bilancio chiaro, questo sì.